Sono otto le persone arrestate a seguito degli scontri avvenuti a Roma in occasione della protesta Eurostrike. Altre persone sono state denunciate, ma non è escluso che altre persone, tra quelle identificate oggi, possono essere denunciate nei prossimi giorni. Tra gli arrestati a vario titolo per violenza, resistenza pubblico ufficiale e utilizzo di oggetti atti ad offendere, c'è anche una donna. Corteie e proteste si sono svolti in tutta Italia e in molte città europee. Molti gli episodi di violenza che hanno coinvolto forze dell'ordine e manifestanti che protestavano contro la politica di austerity dell'Europa per la scuola e per il lavoro. Subito diffuse sul web le immagini di dafferugli che hanno fatto il giro del mondo. Non si è fatta attendere la ferma condanna delle violenze da parte del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, che ha espresso comunque apprezzamento per l'operato delle forze di polizia. E sulle immagini che mostravano poliziotti prendere a manganellate i manifestanti ha detto Una foto è spesso l'effetto finale di qualcosa che magari si è svolto prima. Io porterei anche le foto del poliziotto, qui hanno spaccato il casco in testa. Foto per foto parliamone.